Ciao e benvenuto nel mio video nuovo. Oggi daremo un'occhiata a PrimeXBT, piattaforma di trading multifunzionale basata su Bitcoin. La società, fondata nel 2018, è oggi presente in oltre 150 paesi, propendono agli utenti in un servizio di trading in leva finanziaria con liquidità di lato livello e ampia gamma di strumenti di investimento. Allora, la prima risorsa è l'esperienza di trading con un sistema di leva unico. Puoi ottenere il massimo leva finanziaria su cripto 1 di 100. PrimeXBT predispone anche Forex che abbiamo qui, Forex e materie prime come oro, argento e indici azionari dove puoi ottenere fino a 1 di 1000. La prossima carestica è la piattaforma di trading. I principali vantaggi del trading con PrimeXBT sono, primo, la velocità di esecuzione che è molto elevata, ragionevole commissione commerciale dell'0 e 0,5%, questo è molto bene. Non richiede download e installazioni, tutto faremo online. Interface, la interfaccia è perfetta per i principali professionisti, user friendly come in inglese. Come probabilmente vedete la piattaforma di trading è disponibile dall'applicazione mobile e questo tale argomento ci trasferisce a successiva sezione che è la registrazione PrimeXBT è l'app mobile. Allora, quindi PrimeXBT fornisce il proprio portafoglio digitale che è gratuito e a ogni cliente registrato. Registrarsi a PrimeXBT è molto semplice, tutto quello che bisogna fare per aprire un account è questo broker, e infatti accedere a una pagina registrata e comprare il form con email e password. Nessun dato, nessun personale, che vuoi sì, no no no, tutto è completamente anonimo, questo è molto bene. PrimeXBT ha sviluppato un molto forte sistema di sicurezza. Abbiamo Amazon, come potrete vedere, SSL Secured, abbiamo questo sistema di sicurezza. Tieni presente che l'unico pagamento, deposito accettabile è Bitcoin, sì, l'unico pagamento disponibile è Bitcoin e questo è molto importante. Puoi scaricare l'app, potete scaricare l'app con Google Play e l'App Store. Una parola di questo, mi scusi, possiamo stare sicuro di nostro account perché abbiamo questi Amazon o SSL Secured. L'ultima caristica su cui mi concentrerò è un affiliate program di PrimeXBT. Allora, PrimeXBT offre a partner affiliati un programma unico e generosi premi. Il marchio fornisce strumenti di marketing e collegiamenti per aiutare il partner. Quando il suo amico di riferente scambia e paga commissioni di trading, il partner affiliato riceve una commissione. Questo abbiamo penso qui, sì, questo abbiamo qui e per avere un esempio, quindi abbiamo questo. Ad esempio, se un nuovo cliente è attratto da un affiliato e fa un trade del valore di 1000$ in Bitcoin. La commissione di negoziare è di 50 Bitcoin e il partner riceve il 20% che equivale a 10$. C'è un schema di pagamento a quattro livelli, perché i partner PrimeXBT ricevono inoltre commissioni di negoziazione per un livello massimo di, come ho detto, quattro livelli nel sistema di riferimento. Ecco, tu spiegalo. Abbiamo questo qui, questo abbiamo calcolo del pagamento, molto utile. Io ho anche il mio link affiliato e quindi tieni presente di usarlo per la tua registrazione, prego. Lo puoi trovarlo, come sempre, nella descrizione. E ricapitoliamo. Con tutta la funzionalità menzionata, PrimeXBT è sicuramente una bella piattaforma da controllare. Tutti i collegamenti necessari sono nella descrizione, qui sotto. Spero che ti è piaciuto il video e, come sempre, ci vediamo nel prossimo. Ciao!